E alle ore 14.25 della domenica 11.96 stiamo per arrivare alla città di Ferrezza. Il viaggio è stato tranquillo, sereno, tutta autostrada abbastanza scorrevole a parte il Gottardo, il morale della truffa è altissimo, dopo l'acquazione abbiamo una splendida giornata o pomeriggio di sole, gli ultimi tornanti ci separano da Ferrezza. Ci separano a me, a Luca Alpiccio, a Marika, a Luca Gabrielli che per ora è la guida e al Mauri sempre dietro all'occhio. Eccoci qua, stiamo arrivando attraverso la vita. Gira, 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 ripresa sulla città. Contotto e tutto. Luca Piccini mi ha portato i capitali per comprarsene a casa e ci faremo il quartier generale. Oh, come si chiama? Oh, cazzo di Ferrezza, allora lì? C'è stato nessuno. Sono qui? Allora, interditti di tre ore, dalle 8 alle 12, 14 alle 18. Questa è una città veramente carica.